Il caso della maestra positiva al coronavirus alla scuola primaria Montebianco di Arezzo e successivamente anche della collega aveva subito messo in allarme una città intera. Così era accaduto pochi giorni dopo a Bibbiena, in Casentino. Più di 400 le famiglie in tutto che sono state con il fiato sospeso per 14 giorni. Si è infatti concluso il periodo di quarantena per entrambe le scuole primarie e i bambini non hanno manifestato alcun sintomo. A darne notizia sulla pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo che dirige è il preside Sauro Tavarnesi. Oggi scrive sono passati 14 giorni da quando abbiamo avuto un caso di coronavirus nel nostro istituto. Questo è l'ultimo giorno di quarantena per i bambini, i genitori, i docenti, tutto il personale, me compreso. Il bilancio è quello di due maestre ammalate che grazie a Dio stanno per ora abbastanza bene e al momento nessun altro contagio. Lo stesso fa il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, che sempre nella pagina Facebook del comune casentinese segnala appunto che delle 240 quarantene legate al caso della maestra della scuola primaria, i bambini stanno tutti bene. Ho sentito personalmente, scrive la persona interessata, ha ancora sintomi ma sta meglio ed è a casa. Non è ancora stata accertata però la fonte del contagio, dice il sindaco, quindi è probabile che ciò sia accaduto nel contesto casentinese. Per questo fino al 25 di marzo a Bibbiena saranno chiusi i parchi pubblici.